Ricerca in sanità, cammini storici, difesa del suolo e rifiuti al centro degli ultimi provvedimenti della giunta regionale illustrati dal presidente Enrico Rossi. Partirà a settembre un bando da 22 milioni e mezzo per sostenere la ricerca nei tre ambiti di medicina di precisione, assistenza, diagnosi e cura e ricerca oncologica. La regione ha tra l'altro anche rinnovato il contributo di mezzo milione per fornire le parrucchie alle donne in terapia oncologica. Senza che ci siano obblighi specifici da parte del servizio sanitario regionale, la regione toscana con questi 22 milioni prosegue una buona tradizione che ci ha visto mettere a disposizione della ricerca qualcosa come 108 milioni che dal 2010 hanno finanziato ben 277 progetti. Sul fronte dei cammini storici la regione ha stipulato poi due accordi nazionali da 19 milioni e mezzo con il ministero dei beni culturali. Parte delle risorse saranno destinate ai cammini di San Francesco, San Benedetto, Santa Scolastica e alla via Francigena. Siamo stati la prima regione ad aver completato la via Francigena e questo ha portato una serie di attività. Oltre ad incrementare anno dopo anno i flussi turistici su questa strada, si calcola che ormai sono decine di migliaia le persone che fanno la via Francigena durante l'estate, ma abbiamo potuto verificare che ci sono anche una serie di attività per notamenti, ristoranti che su questa strada si sono sviluppati o che hanno trovato giovamento. Gli altri provvedimenti della Giunta riguardano l'ampliamento della discarica del pago a Firenzuola fino a 240 mila tonnellate di rifiuti con l'impegno del lato centro a conferire in discarica un ammontare di rifiuti pari all'incremento della raccolta differenziata che entro il 2020 dovrà arrivare al 70% e poi la difesa del suolo con 4 milioni e 270 mila euro per finanziare opere di riduzione del rischio idraulico sul territorio, in particolare sull'ombrone pistoiese a Prato. Grazie